Belli rega e benvenuti, dobbiamo andare a sfidare il Cesena per la ventiquattresima partita di campionato siamo più della metà, siamo a tre punti dalla Juventus, a due punti dall'Inter stiamo attenti a questa squadra perché ha battuto una delle due la scorsa volta, non mi ricordo bene chi quindi c'è grande attesa per il debutto di Leby Han che è questo ventiquattrenne che vale 800.000 quindi immagino il suo valore e andiamo pure a sfidare il Cesena comunque davvero benvenuti, questo è l'undicesimo episodio se non ricordo male e dunque la squadra direi che è a posto, perché non ho... ah Van Ginkle si era infortunato o era spulso? spu, ho detto spulso, no Van Ginkle era semplicemente spulso quindi Poli ci vediamo un'altra volta quindi ha la possibilità Muriel in questa partita di segnare il suo ventesimo gol stagionale che in 24 partite non sarebbe certo un cattivo risultato Dove Niang qui e poi dopo direi di rimettere su Scuffet perché l'altra volta ha fatto una signora partita Onda lo mettiamo giù al posto dell'ottimo Meyer che è salito al 77 così come Van Ginkle e andiamo a sfidare il Cesena siete carichi? perché inizia la partota con Cascione che tocca subito la palla per pulzetti questi sì che sono giocatori Niang con la velocità a Niang col destro poi le ali fa un bambino Muriel aggancia la palla Muriel ci prova completamente fuori ma ho dovuto provare perché l'ha stoppata malissimo il difensore era già lì guardate se avessi fatto un altro passo l'avrebbe presa però poteva sicuramente sfruttare meglio quest'occasione dobbiamo riuscire a prendere con i lanci lunghi il Cesena perché se no davvero non riusciamo a vedere la porta guardate guardate anche quando attaccano loro sono già sono sempre in otto in difesa è una cosa è una cosa e il Sharawi col destro mamma mia che bollo mamma mia che bollo alla Robben questo gol e mi sta piacendo fare gol alla Robben con il Sharawi perché ci è portato diciamo così il leali non ci arriva mai proprio mai però davvero grande gol sfrutta la regola del vantaggio che aveva guadagnato lui esce De Feudis di già dopo appena 45 minuti ed entra Carbonero occhio a Carbonero bravissimo Desciglio a chiudere poi però la devi anche dare via non la puoi tenere tu vai il Sharawi finalmente no no oh l'unica volta che le mie ali fanno un inserimento così che è quello che piace a me cioè quando le ali si inseriscono in quel modo lì io proprio godo occhio occhio Abrienza ancora Desciglio mamma mia un muro oggi lì di dietro per fortuna occhio occhio ancora Alex e poi la spazio ah oddio è finita pensavo fosse rigore vinciamo 1-0 di misura sudando tantissimo contro una squadra apparentemente insignificante ma che non ha fatto tiri non ha fatto tiri tra l'altro vabbè giusto erano in otto in difesa erano in otto in difesa quindi è per quello che mi è sembrato di fare tanta fatica però in realtà abbiamo dominato è che non siamo riusciti a fare tanti tiri in porta purtroppo comunque Juve e Inter vincono quindi per fortuna siamo riusciti a dominare questa partita almeno rimaniamo allo status quo delle cose ossia 3 punti dalla Juve e a 2 punti dall'Inter la prossima sarà contro il Chievo Verona che si trova a non so quanti punti sinceramente non ho voglia di andare a vederli e speriamo che in questa partita Muriel riesca a fare il ventesimo gol perché ci terrei davvero tanto so che può sembrare una cavolata però secondo me è importante avere in squadra il capo cannoniere dunque io terrei in campo Onda per questa partita chiaramente Poli adesso rimane titolare ma farò comunque giocare Van Jinkel devo decidermi a modificare tutte queste cose poi sicuramente teniamo Diego Lopez perché Ontiti non mi ha dato tantissima sicurezza mettiamo in campo Rami poi riproviamo Menez e il Sharawi chiaramente intoccabile e direi che siamo a posto così anche se potremo dare un attimo spazio a Grimaldo e mettere De Sciglio nel suo ruolo naturale ossia terzino destro dai proviamola così Onda a giro Onda Onda ero lontano dal microfono forse no non è il primo gol per lui in campionato ne ha già fatti però grandissimo ma che giro ha fatto la palla ah la toccata ok no perché se no veramente sarebbe entrata comunque perché andava ancora più in là però grande gol al terzo minuto ha fatto tutto da solo appena presa palla e è bello iniziare le partite così da soddisfazione qui un fallaccio davvero è giallo oh non dà mica di più Cesar ma c'è il mio amico Cesar il difensore più forte del mondo lo chiamano Onda Onda per chi tira tira porca miseria Muriel ventesimo gol miglior in eh miglior marcatore nel campionato qui Bardi è uscito male non c'è arrivato perché Onda l'ha fregato con la traiettoria della palla e poi tap in Muriel ribadita in rete 2 a 0 e dai così occhio a botta mamma mia ma chi è ma io c'è sto sto guardando a volte della gente che ogni volta che ho guardato nelle partite vere ho sempre detto mamma mia che che pippa che pippone c'è proprio gente che non vorresti mai nella tua squadra e fan delle robe ma vabbè che ische che ische onda dentro per Menez no no perché non ha tirato io piango io piango non è possibile butta la via quella palla butta la via che prendiamo gol adesso state a vedere guarda 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 che prendiamo gol occhio no incredibile ma non è finita non è finita occhio a te mai a te mai gol vabbè oddio 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 no non ve lo faccio neanche rivedere tanto è così lancio lungo pedalata gol bravo Muriel bravo Muriel bravissimo vai onda oh e finalmente e ci godo a fargli il gol della merda qui e ci sta di brutto tic bam la 3 a 2 vi sta solo bene perdenti occhio a maggiorini Alex è la mia ultima possibilità bravissimo cosa ha fatto ma cosa fa ah ok è finita non capisco niente signori perché gioco senza audio perché sennò fa riverbero col microfono e quando vedo il gioco che si ferma non si sa mai abbiamo vinto 3 a 2 ma che sudata per fortuna davvero abbiamo capitalizzato un pochino più di loro quindi niente andiamo avanti adesso vediamo che cosa hanno fatto Inter e Juve e se siamo riusciti ad avvicinarci a loro allora non ci sono non ci sono oddio non è che stanno combattendo l'una contro l'altra perché sarebbe la bazza al momento siamo primi in classifica però Juve e Inter hanno una partita in meno chiaramente non so se sono l'una contro l'altra perché anche Fiorentina e Roma avevano una partita in meno quindi no non erano uno contro l'altra perché hanno guadagnato 3 punti tutte e 3 quindi niente sempre così la classifica noi continuiamo a sperare di vincerle e sperare che qualcuna faccia qualche errore perché se no possiamo vincerle anche no però aspettate la Juve la Juve ha pareggiato perché prima era a 3 punti da noi ora è a 1 punto si la Juve ha pareggiato ottimo quindi siamo a 1 punto la Juve ha 2 punti dall'Inter benissimo quindi andiamo a giocarcela questa qui contro il Chievo Verona in questa partita metterò dentro Torres perché insomma è un po' che non lo uso e ogni tanto è giusto far giocare anche lui alla fine è sempre un 82 però mettiamo su anche Meyer anche se Onda ha fatto davvero bene e poi De Scigli era mio un Titi Abate De Jong Van Gink e poi la teniamo così ci servono alla destra signori perché né Niang né Menez sono all'altezza davvero si fa una gran fatica oh mio dio non sto commentando non so perché poi arriva De Jong e la spara alle stelle non stavo commentando perché ero troppo concentrato per questa azione che è la prima degna di nota da quando è iniziata la partita siamo al 21esimo minuto questo vi fa capire quanto è emozionante questo match fallo bruttissimo fallo dagli il rosso niente e io ci provo signori come la scorsa volta chissà magari stavolta ci va più di fortuna e Sharawi fuori di poco Meyer dentro per De Jong che non ci arriva poi Sharawi la palla è lì grande parata del portiere poi carambole carambole ovunque e non riusciamo a sfruttare le occasioni Menez attenzione fa rivedere il talento di cui abbiamo bisogno Menez esco il destro e finalmente si sblocca dopo tantissime partite in cui non andava a segno no cosa dico ha fatto gol qualche episodio fa boh è che mi sembra meno incisivo dell'inizio e qui davvero si è rivisto il Menez iniziale il Geremia di cui abbiamo bisogno bellissimo gol in solitaria si è fatto tutto il campo come gli si confà e ci porta in vantaggio al 37esimo 1-0 qui a San Siro contro l'Ellas Verona e dobbiamo vincerla per vedere che cosa faranno le nostre concorrenti al titolo finisce il primo tempo 1-0 pochissime azioni degne di nota a parte il gol un altro paio da parte nostra ma loro non hanno fatto davvero niente quindi un risultato meritato l'Inter sta perdendo attenzione contro il Napoli e sarebbe un gran bel regalo per noi Torres recupera la palla poi si invola Torres col sinistro e dopo tanto tempo che non entrava in campo cioè dopo qualche partita in realtà che non entrava in campo si rende subito protagonista di una splendida rete ruba palla a centro campo poi galoppata verso la porta e tic col sinistro non può nulla al portiere 2-0 abbiamo iniziato benissimo questo secondo tempo col piede giusto con la giusta cattiveria adesso dobbiamo continuare così occhio a Jankovic traversa e poi non ci arriva nessuno altre carambole questa volta a nostro favore per fortuna perché hanno fatto in due hanno fatto due lisci sembrava tipo una comica Menez dall'altra parte a cercare Torres però era corto peccato sarebbe stata un'incornata non è finita Torres a giro doppietta per il nigno Fernando Torres 3-0 a San Siro e il pubblico invisibilio disibilio trisibilio questo era Aldo Giovanni e Giacomo in una delle migliori performance o performance e il Sharawi è morto è un morto che cammina stiamo giocando a tombola Torres ancora lui Torres rigore calcio di rigore potrebbe essere il 4-0 lo farò battere del Sharawi gli dà anche rosso a Rafael oddio adesso chi mettono su chi è che hanno anche che cazzo ah ok è Lopez è Nico Lopez ma lol cioè allora il presupposto è che lui non può parare un rigore cioè è proprio impossibile eh ok poi tra l'altro non può parare questo rigore dove gliel'ha messa nel 7 bellissimo però si insomma era un calcio di rigore però comunque è andata bene ah il mio computer mi dice che mi rimangono 9 minuti e poi dopo si spegnerà questa cosa non mi piace assolutamente e uno attenzione perché già uno l'hanno fatto chissà mancano tre potrebbero stupirci e invece no finisce con il 4-1 che sancisce una netta vittoria della nostra squadra e ora vediamo un po' vediamo un po' se siamo stati premiati per la nostra caparbietà nel fare gol chissà magari da qualche sconfitta di qualche squadra a noi sconosciuta che non faccio nomi né cognomi ma si tratta di Inter e Juve l'Inter ha perso 2-0 perfetto quindi ora siamo almeno secondi in attesa di sapere che cosa ha fatto la Juve ma se avesse perso anche la Juve saremmo primi in solitaria la prossima sarà contro il Genoa no scusate il Cagliari e la Juve non ha ancora giocato porca miseria quindi ci lasciano con la suspense fino al prossimo episodio comunque anche se dovesse vincere la Juve avrebbe soltanto un punto da noi quindi davvero la corsa al titolo è più che mai aperta siamo tutti lì e non vedo l'ora davvero di andare avanti perché questo finale di campionato queste 12 partite che mancano si annunciano davvero davvero intense quindi io spero che il video vi sia piaciuto come sempre vi ricordo di lasciare un bello mi piace un bello commento di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci si becca al prossimo video belli rega e ricordatevi sempre una cosa grazie a tutti